Beyond Earth, nuovo e scintillante capitolo della saga di Civilization, non è solo un nuovo inizio per la serie targata Sid Meier, ma soprattutto un incredibile punto d'arrivo per tutti i Forex e per tutti gli appassionati di fantascienza e strategia. Si comincia a bordo della nave spaziale su cui si è arrivati. Pellegrini dello spazio toccherà scegliere da che parte schierarsi. Ogni fazione è caratterizzata da un leader e da un'abilità di base. Questi bonus, assieme a quelli legati all'astronave selezionata e dalla classe sociale dei vostri coloni, caratterizzano tutta la prima parte di una partita Beyond Earth. Le possibilità sono piuttosto vaste, anche se alcune sono più efficaci di altre ed il bilanciamento non è sempre perfetto. Ovviamente per lo svolgimento della partita conta anche su quale pianeta atterrerete, anche se su questo fronte la varietà comincia a scarseggiare dopo qualche partita. Quel che colpisce comunque è che da pochi semplici passaggi di personalizzazione definirete la vostra neociviltà. I primi 100 turni di gioco saranno determinati proprio dalle scelte che avrete fatto a inizio gioco, finché non andrete oltre le tecnologie terrestri che vi siete portati dietro, abbracciando o rifiutando quelle aliene che incontrerete. L'ossatura di gioco di Beyond Earth rimane identica a quella di Civilization 5. Mappa esagonale, movimenti e combattimenti nelle caselle, lavoratori per potenziare i tasselli sotto la vostra area di influenza e così via. Le risorse principali sono rimaste le stesse del titolo storico Firaxis, energia, salute, scienza e cultura. In più sono presenti ben 10 risorse speciali, minerali alieni, che troverete in giro, da sfruttare e studiare per far progredire il vostro popolo verso orizzonti sconosciuti. Il fascino della scoperta è ancora più forte in Beyond Earth. Tutta la prima parte della partita sarà incentrata sull'esplorazione, con l'incognita pesante di quanti alieni vi stanno per accerchiare il primo avamposto. Anche se gli alieni finiscono per non essere una minaccia troppo complessa da affrontare, strategicamente giocano comunque un ruolo fondamentale per la conquista di suolo da colonizzare. Per avere la meglio delle razze xenomorfe bisogna infatti addentrarsi nella parte tecnologico-scientifica di Beyond Earth, un lavoro incredibile per ampiezza e prospettiva. In pratica si inizia dall'ultimo ramo delle ricerche di Civilization, e una volta completato anche solo in parte, si avrà accesso a veri e propri pilastri della fantascienza, come la bioingegneria robotica, i computer quantistici e la genetica aliena. Il comparto delle tecnologie non è più strettamente lineare come in Civilization, ce n'è davvero per tutti i gusti. Le scelte compiute su questo fronte sono legate alle affinità che vorrete sviluppare. Esistono tre percorsi diversi, la purezza della razza, fedele alle radici terrestri, la tecnocrazia assolutista, per cui l'uomo diventa schiavo delle macchine e della scienza, e infine l'armonia con le nuove forme di vita, che accetta di entrare in sintonia con le creature aliene, ibridandosi con esse. La potenza di un impianto simile è cristallina, e si intreccia con le cinque tipologie di vittorie differenti. Al di là della classica dominazione assoluta, abbiamo scelte davvero interessanti. Le diverse vittorie sono strettamente dipendenti da quale delle tre affinità avrete scelto di sviluppare in modo più avanzato. Non è necessario decidere da subito, e anzi, la forza di Beyond Earth è che sarete in grado di portarle teoricamente avanti tutte e tre per scegliere al momento opportuno quella migliore da perseguire. Eppure per svilupparle occorrerà ricercare determinati tipi di tecnologie, oppure completare le numerose quest che vi verranno proposte. Questa è l'altra vera novità di Beyond Earth, ovvero delle avventure testuali a scelta multipla che necessitano di alcuni compiti da portare a termine. Un'introduzione sicuramente interessante, che inserisce nella formula di gioco elementi ruolistici davvero convincenti. Arrivati al comparto diplomatico e dello spionaggio, notiamo che il primo non si discosta quasi per nulla dall'edizione base di Civilization V, con le usuali opzioni politico-commerciali, accordi vari e alleanze. Lo spionaggio invece dipende dal livello di intrigo che riuscirete a far raggiungere le città avversarie, anche se purtroppo l'intelligenza artificiale per ora non pare in grado di reagire in maniera efficace alle vostre operazioni. Questo è forse il più grosso difetto di Beyond Earth. Funziona invece in modo quasi impeccabile tutto il comparto militare. I combattimenti sono diretti da esagono ad esagono, e da stupire è ancora una volta lo sviluppo delle truppe, piuttosto che il sistema di combattimento in sé, superato ormai da altri titoli, uno su tutti Endless Legend. Parlando strettamente di grafica, in Beyond Earth non ci si può certo lamentare. I dettagli dei vari tasselli, le animazioni e tutto il comparto texture sono a livelli di eccellenza assoluta per il genere di appartenenza. Peccato per alcuni bug e glici visivi. Il sonoro fa il suo dovere senza infamia nell'ode, mentre ha l'interfaccia che non ci ha lasciati particolarmente ben disposti. L'aspetto più riuscito di Beyond Earth è il coinvolgimento che riesce a trasmettere all'apparire di ogni nuova quest, ogni nuova tecnologia, ogni nuova truppa evolutasi verso l'ultima frontiera della specie umana. La struttura strategico-tattica funziona in modo impeccabile e offre tantissime possibilità, facendoci incontrare questioni etico-sociali e aliene poste in maniera intelligente al progredire di ogni partita, da uno sviluppatore che si riconferma come una garanzia per gli amanti degli strategici. Al di là di alcune incertezze su virtù e interfaccia, l'unico vero rimpianto è un'intelligenza artificiale ancora molto indietro diplomaticamente. Nonostante le grosse somiglianze con Civilization V, Beyond Earth non solo riesce a proporre scelte inedite al giocatore, ma supera la prova più difficile, quella di darsi una sua precisa identità.